La compostabilità è un termine che si riferisce ai prodotti che dopo l'uso possono essere recuperati mediante il compostaggio, che è la trasformazione dei rifiuti di cucina e di giardino in compost, una specie di terriccio, cioè un ammendante agricolo. Per fare prodotti compostabili ho bisogno prima di tutto di usare materie biodegradabili. Altre condizioni importanti sono la forma e soprattutto lo spessore che condiziona la disgregazione. È ovvio che un film sottile si disgrega più facilmente rispetto a un prodotto spesso e grosso. I prodotti quindi devono essere compatibili col ciclo di compostaggio avendo spessori sufficientemente bassi. Inoltre, altra condizione, non devono rilasciare sostanze pericolose nel compost come ad esempio metalli pesanti.